ciao sono anna e sono una specialista in diva e mi occupo di riabilitazione dei disturbi perineali ti è mai capitato di avere dolore a stare lungo per lungo tempo seduto di avere dolore durante i rapporti o di percepire un dolore costante nella zona basso addominale seguimi perché oggi parleremo dei dolori pelvici cronici e la loro gestione con tecnologie in diva che cos'è il dolore pelvico cronico è un dolore che si percepisce in zona basso addominale e viene percepita da un periodo più lungo di sei mesi è solo una classificazione non è detto che il tuo dolore sia per sempre è solo una classificazione di un dolore che è presente da più di sei mesi quali sono le cause del dolore pelvico cronico abbiamo innumerevoli cause che ci possono determinare un dolore pelvico cronico cause gastroenterologiche da un punto di vista digestivo quindi gastroenterologiche urologiche neurologiche muscoloscheletriche e altro ancora ora oggi parlerò delle cause un po più comuni che danno dolore pelvico cronico una delle cause più comuni per esempio è l'endometriosi che cos'è l'endometriosi è una malattia cronica e complessa è originata dalla presenza anomala di tessuto che riveste le parete interne dell'utero in altri organi quindi un tessuto che normalmente è presente soltanto a livello uterino potrà essere presente per esempio a livello delle ovaie delle tube del peritoneo e della vagina quindi un tessuto che normalmente nell'utero si presenta in altri organi cosa succede mensilmente al nostro utero che sanguina quindi questo tessuto che è presente in altri tessuti dove normalmente non è presente ciclicamente sanguinerà questa presenza di sangue mi darà infiammazione e ovviamente successivamente mi darà delle aderenze quindi delle restrizioni di movimento quindi quali sono per esempio i sintomi avremo un dolore pelvico nella zona basso addominale un dolore che sarà ciclico durante soprattutto il ciclo mestruale durante l'ovulazione un dolore per esempio che può presentarsi l'evacuazione ma può dare anche dolore sessuale a seconda delle zone che andrà a colpire cosa sono invece le aderenze ne abbiamo già parlato parlando di endometriosi ma le aderenze non possono essere possono essere causate non soltanto dalla endometriosi le aderenze sono dei fasci di tessuto fibroso che si formano tra tessuti organi quindi dei cordoni vedete un pochino l'immagine dei cordoni fibrosi che generano restrizione di movimento possono essere dovuti e svilupparsi in seguito a traumi interventi chirurgici cosa danno anch'essi dolore addominale non ciclico che aumenta per esempio durante un rapporto durante l'attività fisica e questo fa sì che sia ridotta la mobilità anche dell'organo congestione pelvica cos'è la congestione pelvica la posso paragonare un po' una patologia che conosciamo un po' più comunemente quella delle vene varicose altro non sono che vene varicose che interessano tuttavia le diciamo varici o variche e delle iliache le iliache sono le principali vasi sanguigni che mi vanno a innervare la zona diciamo dall'addome verso gli arti inferiori abbiamo un dolore anche qui al basso ventre un dolore lombare dismenorrea e disparionia cos'è la dismenorrea dolore durante il ciclo l'utero molto spesso si presenta gonfio e le ovaie sono anche se presentano delle cisti altra problematica che mi può determinare dolore pelvico cronico sono le malattie infiammatorie intestinali per esempio la più comune è la sindrome dell'intestino irritabile che è caratterizzata in realtà da un'alterata motilità intestinale abbiamo la sindrome uretrale che invece è un dolore che mi interessa l'uretra cos'è l'uretra l'uretra il canale di comunicazione tra la tra la vescica e la la zona esterna perineale mi permette di urinare da cos'è caratterizzato la sindrome uretrale da disuria cioè difficoltà nell'urinare da frequenza e urgenza quindi per esempio si va in bagno più volte al giorno più delle otto volte sette otto volte al giorno urgenza cioè è quella classica sintomatologia di quando noi rientriamo a casa mettiamo la chiave nella toppa improvvisamente sentiamo uno stimolo che è imperentorio cioè che improvvisamente insorge e che non riesco a gestire devo immediatamente svuotare la vescica e molto spesso non riesco ad arrivare in bagno abbiamo sempre questo fastidio sovrapubico e dolore e la dispareunia che cos'è la dispareunia è un dolore alla penetrazione non soltanto non pensiamo la presa la penetrazione soltanto in termini di rapporti sessuali ma ovviamente a una esplorazione per esempio ginecologica ma anche per nell'introduzione di un tappone normale tampone vaginale la cistite interstiziale la cistite interstiziale un'altra patologia molto complessa e viene definita interstiziale perché è un'infiammazione della vescica in assenza di fattore ziologico di batteri quindi lì dove non ci siano batteri parliamo di cistite in realtà la cistite interstiziale è più caratterizzata dai sintomi che dalla reale classificazione della patologia abbiamo un dolore sovrapubico anche qui una minzione frequente e qui abbiamo anche eventualmente nicturia che cos'è la nicturia è un'urgenza notturna quando ti alzi per andare in bagno più volte durante la notte disuria anche qui difficoltà nell'urinare ed emature occasionale cioè perdita di sangue dalle urine anche qui dolore sovrapubico dolore pelvico e uretrale impingimento nervoso impingimento nervoso forse è una patologia che è più comune per esempio allo sportivo parliamo della nevralgia per esempio del pudendo è classica per esempio dei ciclisti perché il nervo pudendo passa valere mi potresti passare per favore il manichino il nervo pudendo emerge vedete qui insomma da dalla zona sacrale emerge dalla zona sacrale e se vediamo bene va qui verso la spina schiatica e innerva tutta la zona perineale ovviamente il mio cellino andando costantemente a comprimere il mio nervo pudendo può andare ad irritarlo quindi parliamo di nevralgia del pudendo in realtà è una sindrome molto comune nei ciclisti ma ugualmente espressa in tutti gli sportivi questo sarà un dolore che ti determinerà per esempio prenderà l'area genitale intorno all'area genitale è un dolore solitamente monolaterale è un dolore che a differenza degli altri è molto urente bruciante è molto importante come intensità di dolore cosa fa la tecnologia indiva indiva è una delle più comuni tecnologie utilizzate in fisioterapia è una tecnologia comunemente nota come tecarterapia parliamo di un flusso di carica che va dall'elettrodo attivo alla placca di ritorno neutro parliamo di un'altra frequenza di 448 kHz abbiamo quindi un elettrodo capacitivo che mi permette di lavorare in superficialità i tessuti e un elettrodo resistivo che invece va più profondamente sui tessuti resistenti in ambito di pavimento pelvico abbiamo anche l'introduzione dell'elettrodo resistivo longitudinale questo elettrodo qui mi permette di essere più specifico nell'area anatomica di interesse quindi nell'area ginecologica di essere più precisa e puntuale qual è quindi il nostro scopo in questo tipo di patologie? sappiamo bene che indiva ci riduce il dolore, l'infiammazione, migliora l'apporto di sangue perché molto spesso avremo che in seguito al dolore la nostra muscolatura perineale si andrà a contrarre di riflesso perché è un'azione diciamo antalgica e analgesica del nostro corpo per reagire al dolore per liberarci dal dolore però ci crea ulteriore dolore quindi apportiamo ossigeno e nutrimento ai nostri muscoli che stanno soffrendo riequilibriamo il tono muscolare e andiamo a mobilizzare i tessuti che sono retratti in sintesi stiamo parlando di patologie internistiche quindi sarà importante che in ambito di dolore pelvico cronico tu consulti il tuo medico di riferimento quindi eventualmente il tuo orologo, il tuo ginecologo però eventualmente il tuo fisioterapista in unione al tuo medico di riferimento potrà offrirti un ottimo supporto e aiuto nella gestione dei sintomi di queste patologie spero che questo video sia stato di interesse, spero di averti spiegato in semplicità che cos'è il dolore pelvico cronico seguici ancora sul canale in dibattito ciao ciao ciao